Tutti gli anni celebriamo tra compleanno e non compleanno questo momento particolare, però è chiaro che nell'anno della capitale italiana della cultura intanto si respira anche quell'emozione del 2018, dell'anno del 150esimo, che fu un anno da ricordare anche per le celebrazioni rossignane, ma questa volta di più perché si sa di avere l'attenzione nazionale e internazionale ancora più grande attorno a questo periodo che tra l'altro si dilata in maniera importante perché andiamo ad abbracciare un periodo che va dal 18 di febbraio al 6 di marzo, quindi tante occasioni che faranno un po' da lancio a queste settimane veramente attese e che vedranno ovviamente concerti, momenti notevoli al Teatro Rossini, al Teatro Sperimentale con la collaborazione dei vari soggetti, da Rente Concerti, l'Orchestra Sinfonica Rossini, da Paolo Fresu ai più importanti brani rossignani eseguiti dall'Orchestra Sinfonica fino alla giornata del 29 che chiaramente sarà un po' il clou della festa con la riapertura dell'auditorium Scavolini, con una festa in musica e non solo in musica dalle 18 in avanti, prima nelle vie della città e per il lavoro sui rossini ci sarà anche una grande torta a celebrare questo tipo di appuntamento, chiaramente pensata per i più piccoli ma non solo e alle 21 al Teatro Rossini invece è un momento in cui attraverso la Messa di Gloria, attraverso una collaborazione tra Rossini Opera Festival e Conservatorio, in musica si celebrerà al meglio questa giornata così straordinaria, passando per l'emissione del Franco Bollo che verrà raccontata domenica 25, mi sembra, 25 di febbraio e che poi aprirà una mostra con il circolo filatelico, il tributo del rumbo e delle moto Benelli che sfideranno per la via della città in una di queste giornate in un carosello festante con lo strumento del motore che in questo produce una musica, un'armonia che tributerà la sua festa al nostro grande concittadino, lo spazio di Casa Rossini e della Galleria Rossini che si va adottare un nuovo spazio anche per piccoli concerti. Dobbiamo aspettare una serie di fuochi d'artificio per tutti, quella è la cosa secondo me più interessante, dai bambini ai giovani al pubblico più maturo, questi 16 enti hanno creato col comune di Pesaro un'avventura davvero dei mille colori piena di musica, di danza, di scoperta di questa tradizione della città, devo dire che il gusto è quello di tuffarsi nel programma, a viversi tutte le giornate, in particolare il 29 perché è la giornata che capita ogni quattro anni, quindi insomma il giorno che non c'è, il compleanno del nostro maestro di Pesaro, quindi una lunga festa che nasce da un livello molto popolare che è quello delle istituzioni di Pesaro e si rivolge davvero a tutta la cittadinanza e a quanti vivono la città in questa occasione speciale.